Pesante il nuovo attacco di Beppe Grillo ai giornalisti, li ha accusati di essere i principali responsabili dello sfascio dell'Italia. Un post contro i giornalisti, l'ennesimo di Beppe Grillo. Sul suo sito il leader del Movimento 5 Stelle se la prende con la stampa e la tv. Sarebbero loro i principali colpevoli dello sfascio dell'Italia. Asserviti a un padrone, dice, a un'ideologia o più prosaicamente al portafoglio. Grillo tuona, il paese non cambierà a breve, almeno fino a quando il potere è incarnato dai partiti, disporrà delle televisioni di Stato e Berlusconi di tre reti televisive nazionali e i giornali finanziati pubblicamente. L'occupazione dei mezzi di informazione è totale, dice Grillo, l'ultima barriera prima della caduta del regime, come succede in tempo di guerra, dove le sconfitte sono ritirate strategiche e la vittoria è sempre a portato di mano. Questo scempio, chiude Grillo, avviene per 24 ore al giorno nei talk show, nei telegiornali, nelle inchieste su misura. E intanto il Movimento 5 Stelle alle prese, con il classico turnover al vertice dei gruppi parlamentari. Vincenzo Sant'Angelo è il nuovo capogruppo al Senato, al posto di Paola Taverna. Sant'Angelo resterà in carica per i prossimi tre mesi ed è considerato un fedelissimo di Beppe Grillo.